Wake Up Call è l'evento più importante in Europa sulla finanza personale ed è per questo che il prossimo evento a Parma saremo ancora di più. Ben oltre 2000 persone saremo insieme per un weekend incredibile alla ricerca di che cosa? Di capire come funziona il denaro, come funziona la nostra testa in relazione al denaro e quali sono le emozioni che fanno la differenza tra avere una vita da povero, da classe media oppure da ricco. Wake Up Call è il tuo momento per prenderti due giorni e riflettere su una delle cose più importanti della tua vita, la tua libertà finanziaria.